Si è tenuta al Bagnoli Hub di Napoli la terza edizione dell'iniziativa Technology Beats, la manifestazione euro-mediterranea dedicata alla tecnologia e all'innovazione, ritenute premesse indispensabili ai cambiamenti socio-economici che sta affrontando il mezzogiorno. Con più di 40 eventi che coinvolgono personalità di rilievo nel settore dell'industria, dell'economia, dell'università e delle associazioni, Technology Beats si rivolge al mondo delle imprese per offrire risposte concrete alla crescente domanda di informatizzazione delle aziende del Sud Italia e del bacino del Mediterraneo. L'evento, patrocinato dal Comune, ha visto la partecipazione dell'assessore allo sviluppo Marco Esposito e proseguirà per tutto l'anno su più canali di comunicazione come web, stampa e tv.